Constatiamo le difficoltà nella gestione della struttura e per questo ci stiamo organizzando per fare in queste ore il trasferimento di tutti i pazienti e quanto dichiara il direttore generale dell'ASL BT Alessandro delle Donne che ha deciso di svuotare completamente la casa di riposo San Giuseppe di Canosa di Puglia. Dei 43 anziani ospiti della RSA 6 sono morti e se 21 ospiti erano già stati trasferiti da inizio aprile in queste ore si sta provvedendo al trasferimento di altre 34 persone negli ospedali di Biceglie e Canosa di Puglia. Oltre gli ospiti infatti anche il personale sanitario della casa di riposo ha contratto in massa il virus. I conti qui è più facile farli al contrario. Sono quattro le persone dentro la casa di cura risultate negative al covid-19. La situazione coronavirus nella batte dunque tutt'altro che serena nonostante il dato odierno del bollettino regionale riporti una crescita di solo due contagi. Un conto alla rovescia sta tenendo col fiato sospeso tutta la comunità trinitapolese. I 24 tamponi effettuati sino a questo momento al personale della casa di riposo Domus Lauretana hanno dato esito negativo. Si attendono i risultati dei test sugli ultimi dipendenti della struttura per avere un dato definitivo non è ancora scongiurata quindi ma sembra affievolirsi l'ipotesi di un focolaio all'interno della RSA di Trinitapoli dove due giorni fa un ospite ultra settantenne è risultato positivo al coronavirus facendo scattare i controlli a tappeto dell'ASL. Dove invece la situazione continua a peggiorare nella casa di riposo bilanzuoli di Minervino Murge. Ieri si sono registrati un decesso il terzo dall'inizio della pandemia ed un nuovo caso di positività tra gli ospiti della struttura. I contagi nel paese murgiano salgono a 46 tutti riconducibili al focolaio scoppiato all'interno della RSA. Gli anziani risultati positivi vivono in quarantena nella struttura sei quelli ricoverati negli ospedali di Canosa e Biceglie. La procura di Trani ha intanto aperto un'indagine conoscitiva sull'origine dei contagi nelle case di riposo nella BAT. Anche all'interno dell'Opera Donuva di Biceglie dove 37 ospiti e 9 dipendenti sono al covid-19 tra il personale contagiato si registra anche la prima guarigione definitiva dalla malattia, la seconda nella città di Biceglie dove i casi complessivi di coronavirus dall'inizio della pandemia sono 61.